Ed eccoci qui ragazzi in questo nuovissimo video Ora siamo arrivati nella parte in cui dobbiamo andare nella piscina Nel senso che noi comunque Noi siamo andati all'ufficio del preside E poi abbiamo deciso di andare qui Cioè Chloe ha deciso di andare in piscina e usufruire della piscina Ok non vedo altra cosa che posso fare a parte End of the party world party No end of the world party Ma è sempre della Vortex club Sì madonna si vissi Annuncia I actually don't have the time to investigate this caper Occhiali smarriti I hope the otters will survive Terra non può più aspettare Informa di acco di viso Ha detto un eco volentario anche oggi Anche già allora si parlava di sta roba If only I could solve the mystery of the missing cat pics Ricompensa Cerco disperatamente il mio zaino L'obbato contenente libri e un nuovo tablet Ne ho bisogno per le lezioni Il mio tablet contiene foto private di miei gatti scomparti Vabbè morti Per questo offro una ricompensa Pensa senza fare domande Per maggiore informazione Per ristituire lo zaino Sapete come contattarmi Per favore Vabbè non c'è altro da leggere Quindi andiamo la crue Ecco Spogliatore dei ragazzi O spogliatore dei ragazzi Beh andiamo nel spogliatore dei ragazzi Ovvio Cioè andiamo per una volta in quello dei ragazzi Guarda lo spogliatore dei ragazzi Bello, bello, bello Non c'è un cazzo dentro l'armaletto Oh sì c'è qualcosa qua Di botto I guess somebody forgot their blackwell spirit Oh, armaletto I guess I should consider this evolution Vediamo Vediamo Dan di Dana Sono un coagliore Ma ci tengo ancora a te Un bacio Lugan Questa è l'ex ragazza di suo Sex me up Ehm Vediamo Tutte cose Victoria Eh vabbè il cazzo Cioè non ci voleva tanto Sì però Madonna quanto odio Nooo Io sono una Femminazista Che cazzo Che cazzo Diana Baby Se qualcuno sa che cut Nid Boh ha bisogno Tipo No Mi pare che Nid Ha bisogno Tipo Non mi ricordo Raga in questo momento Non mi ricordo Però Se qualcuno lo sa Max Caulfield Moral Avenger Or Self-righteous Hypocrite Andiamo La saponetta Ragazzi Non voglio raccoglierla La saponetta Grazie Soprattutto Nel bagno Dei ragazzi Che è sta roba Broz 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 Certo Dopo raga Me li metto Tutti a A tradurre Perli scrivo sotto Se riesco Però Non credo Che si possa Scrivere Tavola Reservatore I don't think Anybody has ever drowned Here I hope Come c'è Certo In case I run out of air I know where to come Questo che è L'ufficio Picchiera Coffee and swimming Good combo Passetto Yes We get it Otters Marine Don't even think I'm gonna make a move On you Oh Now I have the power Over light And death Prango I'm gonna make a move 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 Look at the baby Allora, andiamo Eh, già si è messa in costume Che belli sui tatuaggi Ah, ti sei già buttata E mo? Con che mi tuffo? Parlo Ma dove l'ha trovata il costume? Dove? Oh Ah, però il biancheria intimo Oh, ma è il biancheria Oh, ma è il biancheria Oh, ma è il biancheria intimo Ehm... Come more, whatever? Tu stai diventando come questa forza di nature, più come la luce di nature. Come on, ma power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me you would have never discovered your power, right? Absolutely. Awww, what the hell is that? Like Warren? You're the bro killer. Tats and toad. You did not just say that. Plus I am not down with these Arcadia Bay hillbillies. I don't blame you. Anyway, we have bigger fish to fry, right? No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other. Outer vs. Shark style. I think I've had my cool experience for the year. Let's jump. Let's call it a drop. It's fun, but let's batte, raga. I'm going to freeze my ass off when I get out. But... Every time we have to go on the risks. Bruno, I'm so excited for the job right now. I love you. I love you. I feel like we just went swimming in chlorine bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Oh, God. Hide! cavolo ora è la parte in cui me devo andare cazzo dove entro qui esci dai ma vaffanculo il padre di quello del compagno della mamma di dove ah cazzo 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 è stata abbastanza facile spero che non ci acchiappi più cioè che è finita qua Anche perché al buio non si vede moltissimo Quindi è difficile Oh, va bene o male No, Dio Che padre Ecco Che ragazzo siamo andati Ma, cioè noi siamo andati a dormire a casa di Groveri, non ho capito Ma, non ho capito questa Che poi madonna, pure la sorveglianza di sera Quindi ce la lanza un po' su Dio, ma ce li troviamo molti Ecco qua Oh, finalmente Oh, ecco qua Siamo andati Beatamente Ah, ma è la luce quella roba Oh, ecco qua 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 No, è stato un vero, ma bello. Eeeh, bello, sì. Vediamo. Che detto. Oh, ha spitto un po' piro. Grazie di cuore per avermi raggiunta sul tetto. Sei l'unica che c'è sempre stata per me a scuola, l'unica che ci teneva davvero. Credo che tu sia mandata da me per darmi la speranza. Hai fatto molto di più. Anche a mio padre ti riconoscendo e sarai sempre nelle nostre preghiere, con affetto. Che carino, però, che detto. Dai, comunque mi è piaciuto un sacco. Uuuuh. Il baso di prima è stato uuuuh. Molto veloce, ma... Eeeh, scioccante. Chissate se era scioccata perché era schifata o... ...o perché magari non se l'aspettavo in basso. Eeeh, scioccante. Andiamo a prendere la colazione. Che carina sta canticchiando. Ciao, Joyce. Ciao. Ciao, questa è la giornata. Eeeh, 4 io Eeeh, 4 io uomo. Oh Oh Ok 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 Oh I don't know There are cereals Chloe still eats the same cereal I love that they still have the same refrigerator Oh Yes, but it's not in the fridge It's not in the fridge Well It's not in the fridge I don't know I don't know It's just like It's American It's like this It's not in the fridge After all these years and everything that's happened It's great to see you and Chloe together again She hasn't had a good friend since you or Rachel Those clothes remind me so much of her Such a sweet girl I'm just hoping She's living locked in LA I'd love to think that too, Joyce But We are on the same page, Max I keep hoping that Rachel will show up Or even send a message to Chloe from Hollywood Or Wherever she is She's living locked in LA She's living locked in LA She's living locked in LA I hate to even think this Much less say it out loud I think Rachel is in serious trouble I know I watch those awful true crime shows And it makes me ill If I think about Rachel ending up on one So I don't think too much I see why Chloe is so obsessed with finding her Max Caulfield Are you actually jealous of Rachel? What? No way I know I was selfish when I left I'm glad Chloe found a better friend No, just a different one Last time I saw you and Chloe in your pirate outfits I knew she would never find a better friend And when you took the rap for that joint You proved it No But it seems like Chloe and me were pirates a thousand years ago And that makes me what? A century old? You were only 18, Max You were only 18, Max If only I would go back It's not all that, Joyce Voila, a breakfast fit for us queens And a king Go sit at the table Hmm Let's see Let's see I guess I've seen a little bit of wine I don't know Here I am I'm glad that it's creamy and not crunchy I'm sorry I guess nobody waters the plant here Thank you so much, Joyce I'm never leaving this table Good, you can clean But beer doesn't make me any news Oh, man I don't want to be famous for this The guy who is very ravening The vocalist is close Oh, dear The food is good Oh, dear I'm not sure 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 I'm sure Sure Anything ? Seriously... It's good I should have eaten I haven't been able to eat No? What? I don't know to let me eat I don't know I don't know I don't know Yeah, I don't know I can't remember It's good Non, non, non... Non, 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 non... Non, 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 non Keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me, I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now, who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. I do need to get into David's computer. He's got to be hiding shit. No shit, it needs a password. How about stepdouche? Try again. I need more clues. Nothing to see here. No. Maybe I could try stepdad for the password. No. I need to be. Yes. I need to be. Naturally, David would buy a heavy-duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. I need to be. Magic 8-Ball says no. No way, Max. You totally froze the laptop. Crazy. 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 cerchiamo un cassetto maybe this ID number might work cerchiamo ancora I could try the license number for the password looks like David has read this a lot what did he learn? Ragnar 20 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 21 21 21 21 21 22 21 22 22 22 22 22 23 23 24 23 24 24 25 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 26 25 25 25 25 25 25 28 Padrigno, ah, vediamo questa qua. Scusami, nella famiglia manca una data. Nell'esercito manca una data. Andiamo. Forse non ha macchie. Andiamo. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Vediamo. Questo è l'inizio quello dell'esercito. No, allora è qualcosa di famiglia. Per forza. Ah, vediamo se me l'ha sbloccato. Oh, per un attimo ho visto qualcosa. Trofeo. Targa. Cassetta. Borsa. Qua non mi fa passare coltello, visiera. Tusca. Qua dove hai raccogliato? Che cosa ho cercato? Un aspetto, un aspetto. Un aspetto, un aspetto. Un aspetto. Comenta che ho scritto questo un po' no 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 me ha detto qualcosa qua si si buggano queste cose credenza già ho visto no già l'avevo visto libro è la targa però non mi dice raga mi sta a perdere qualcosa non ma questo è il cortello trofeo non non lo so raga dove sta sto cercando un po' però non mi pare di vedere un cazzo eh si ho capito però non c'è un cazzo qua cioè tutti gli oggetti sono finiti non 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 Qua abbiamo detto che non c'è niente. Qua abbiamo detto che non c'è niente. Qua abbiamo cercato prima e c'era la foto del... Qua abbiamo detto che non c'è niente. Qua abbiamo detto che abbiamo detto che non c'è niente. Qua abbiamo detto che abbiamo detto che non c'è niente. Trofeo. La targa. Forse fosse stato stesso. No, questo già l'abbiamo cercato. Andiamo a ricercare la borsa. Non so proprio dove altro c'è niente. Eh no, nel senso che con il cortello... In realtà non ci posso andare. Questa... Bah... Non mi saprei io. Cioè con gli armi non ci faccio niente. E' qua che non ho mai trovato niente effettivamente. Però boh, non mi dico niente. Che palle. E che raga, manca l'ultima che è la famiglia. Cioè le ho trovate tutte. Cioè... Deve esserci qualcosa che non abbiamo trovato. Però... Non capisco... Cosa. Vabbè raga niente. Lo scopriremo per la prossima... La prossima parte. Se lo trovo. Perchè... Stasera guardate... Non riesco a trovare una ceppa. Ehm... Io ce li provo. Non so. Magari cerco pure qualche... Quale è la password. Insomma dove devo andare. Però... Non so. Qua sono le pelle. C'è un cazzo. Aspetta... Mica nella foto. non so quali valore puoi fare non mi pare che ci sia la loro no raga non lo so poi lo vediamo domani anche perchè io non trovo nient'altro voglio riprovare un po' tutte le cose anche se manca quella però se provo a ritornare tutti indietro non 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 Sì, sì, sì. Vabbè abbiamo trovato tutto però Ora riusciamo a trovare questo qua Vabbè raga io per ora stacco e vediamo se dopo lo riesco a trovare E salve a tutti ragazzi Siamo nella seconda parte dello stesso video Perché non riuscivo a trovare l'ultima cosa della password Però non mi ha salvato questa parte quindi dovrò rifarla E niente Quindi farò di nuovo le stesse cose che ho fatto Ovvero cercare gli indizi In ogni caso so comunque che questi non sono i Gli indizi però vanno trovati comunque in ogni caso E li devo trovare tutti insieme Allora un altro stava qua Un altro era il lucchetto che abbiamo visto Ehm il lucchetto Che ha messo le pistole L'altro cassetto se me lo fa aprire Circa Ok Che ci dice vale il numero Qui è il numero della licenza del porto d'armi Però non è questo Poi c'era un libro inutile però lo tocco lo stesso Perchè tanto che questa sarà l'ultima parte Poi nel trofeo C'era appunto la targa E nella... Qui c'era la targa Che dicevate il matrimonio Questa è un'altra cassetta Poi c'era la no E poi c'era Praticamente il coltello qui E per ultimo Nella visiera C'era questo qui Il biglietto Che io ho visto ma non ho letto il successivo Che è questa la... Ehm... Praticamente è il dinner dove lavora lei E praticamente è la ricevuta Quindi praticamente dovrebbe essere questa la... L'inizio Vediamo Allora dovrebbe esserci tutto Ah no è l'esercito Ah si 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 Manca l'ultimo indizio Che era quello dell'esercito Che stava dentro qui Ecco la borsa Ultimo indizio Ecco qui Allora vediamo C'è tutto Dell'esercito C'è tutto Ma non ci interessa Nella parte personale Abbiamo tutto Ma non ci interessa Della famiglia Doveva mettere Appunto La data del dinner Esatto Ecco qua la nuova parte Vediamo Spoiler alert Rachel Definitely hooked up with Frank Oh quindi Profilo di Rachel Hammer Prima di tutto è un po' strano che lui abbia le cose di Rachel Rachel ha saltato le lezioni per tutta la settimana Frank e Rachel ci incontrano ancora Rachel evita il dormitorio Seguito Ho seguito Rachel al faro Quindi cioè lui ha seguito Rapporto della violenzia di Arcadia Bay Bay Non so No Bay si dovrebbe venire Caso numero 678 Agente Vabbè Verbale Leccember 18 anni è stata fermata alle 14.35 All'accademia Per il possesso di una sostanza illegale David Madsen Capo della sicurezza del campus Aveva contattato la polizia dopo per la Ehm Mi sta tornare Ehm E il quale Ehm Di quale ha risposto con minacce e Ehm Se mentite La sua borsa contenteva fare droghe illegali Consumate Ehm Vabbè comunque non in caso l'ha beccata con la droga Aspetta Creepy Bastard Quindi ha Sia Rachel Kate Che stava dicendo Stava stalkerando Cioè la stava seguendo Stava vedendo le sue cose Mi fa sempre il stesso Percorso per andare a lezione Oddio L'ho proprio stalkerava Ho sentito Kate e Diana parlare di materiali per la festa del Vortex Club Droga Visita Ehm Kate con il suo gruppo parocchiale Conosce bene la Bibbia Kate rimane nei bagni più a lungo degli altri studenti Droga Oddio Ma questo è pazzo Quindi entrava nei bagni Cioè la stalkerava dei bagni Vissa Kate aiutare Jeffers dopo le lezioni Ma evitarsi di uomini con pizzetto Kate passa molto tempo da sola alla festa Molto tempo da sola alla festa del Vortex Club Non va nemmeno in chiesa Droga Ho cercato di parlare con Kate Della festa Era turbata e scappata Consapevole Max Pure il mio Pre Presud Ehm Max Max Studentessa Araria di lezioni Ottobre Due settimane Araria scolastico Ma ne cazzo E poi Ok apriamo la porta Oh mio O Ligoro Oh Che palle Oh di you Ah, non ti Ah, non ti Oh, non è vero l'emane ah che era di con davis che era di con croé ovviamente con croé cioè è fatta 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 perchè ovviamente ho fatto tutto io ovvio ovviamente ma vaffanculo è fatta 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 ovviamente questo lo lasciamo al prossimo episodio perchè comunque noi dobbiamo leggere anche il diario di max come ve l'ho detto nei nei commenti 20 e quindi praticamente noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video ovviamente ovviamente fatemi sapere se volete insieme i miei video anche perchè è abbastanza corto credo quello di max non parlerò moltissimo quindi ci vediamo la prossima settimana con il continuo di questo e con il diario di max ciao ragazzi ciao